Sinceri Talk è il format dove vi raccontiamo con sincerità tutto quello che pensiamo del mondo manga qui sulle piattaforme. Insieme alla mia co-host Mansi Kawaii vi racconteremo col cuore in mano e senza filtri, senza nascondere informazioni, tutto quello che pensiamo sul mondo dei manga, a partire dalle mosse di marketing delle case editrici fino ad arrivare a quello che succede nel dietro le quinte di una fiera del fumetto, come si lavora e anche come non si lavora parleremo di quello che fanno i content creator e di quello che sarebbe meglio fare. Insomma un format dove vi diremo con sincerità tutto quello che pensiamo. Oggi è un tema importante, secondo me possono uscire delle cose molto interessanti, sono curiosa di sapere anche in chat come magari loro vedono da fuori l'essere creator, magari in chat c'è anche qualche creator che può dire la propria ma per tipo chi non lo è poter sapere no? Voi magari ecco in chat che cosa fareste? È vero che è una domanda un po' semplice perché no? Fatta uno dice vabbè ovvio sarei me stesso però ora a parte sta risposta che già vi anticipo perché immagino che in tanti lo direbbero però sarebbe interessante capire. Non è facile essere se stessi sui social in generale. Io lo trovo una sfida piuttosto difficile da riuscire a vincere perché c'è tanto che ti viene chiesto ma non perché viene direttamente qualcuno che può essere non so uno sponsor o anche un fan ok? È proprio quando sei qua sopra che molto ti viene chiesto, ti viene chiesto il tempo, l'impegno, tutto te stesso e quando te stesso finisce e non basta più, devi fare qualche altra cosa. Può nascere un personaggio, può nascere qualcosa di buono ma anche di falso e sbagliato nei tuoi confronti. Quindi secondo me è veramente molto difficile essere se stessi sempre sui social. A volte si rimane un po' invischiati in alcune dinamiche che non sono positive. È più che altro anche perché bisogna trovare poi un giusto compromesso perché alle volte magari nell'essere te stesso non lo so si sta parlando ultimamente di modi di fare e quindi magari se tu sei te stesso usi non lo so mille parolacce mentre parli però alle persone da fastidio questa cosa quindi devi cercare di dire ok va bene allora magari mi trattengo, non vuol dire snaturarmi cercare di arrivare a patti e infatti stasera affronteremo proprio questo discorso se è giusto o sbagliato fino a che punto farlo anche perché sarebbe interessante capire se deve essere o bianco o nero o se invece si può trovare una scala di grigi insomma per ognuno. Poi sempre i due poli non sono mai totalmente proprio azzeccati. Se ci pensate cioè anche tu Dome se ci pensi dimmi se dico una cazzata ma anche al lavoro non lo so io vado a scuola al lavoro di insegnante posso essere me stessa al 100% oppure devo esserlo cioè trattenendomi un minimo perché sono lì in quanto insegnante mentre lavoro? Cioè comprendi? Allora ecco questa è una cosa che naturalmente ha a che fare con tutti quanti noi in tutti gli aspetti della vita non solo quella dell'essere creator però insomma collegandoci direttamente al nostro argomento che poi è un lavoro per molti per me lo è al 100% sono dell'idea che non ci si può mai esprimere sul serio su quello che pensiamo nei confronti degli altri poi lasciate perdere che magari noi lo faremo in questa puntata o in una delle prossime puntate del sinceri talk non ridere sotto i baffi Martina magari sì noi ci toglieremo qualche sassonino dalla scarpa però non è sempre possibile fare questo perché quando parliamo ecco questa è una cosa che molti fanno finta di non sapere possiamo ferire gli altri a volte quando parliamo rischiamo di ferire in un pubblico di 100 persone anche solo 10 ma anche solo una persona a volte quando parliamo anche direttamente con quella persona rischiamo di ferirla perché abbiamo delle idee che sono molto diverse dalle sue c'è bisogno di avere una presa di coscienza di avere un po' di responsabilità in più quando si parla sui social ma anche quando si lavora di cercare di non ferire gli altri più che altro per il quieto vivere perché molto spesso succede questa cosa qua che io noto e che mi dispiace e cioè che si sovrappongono i ruoli dell'amico e del collega un po' di volte succede sta cosa ecco cioè se io dico una cosa qua da amico devo anche sapere io per primo a chi la sto dicendo a chi arriverà questa voce come arriverà quindi bisogna sempre essere attenti a cosa si dice come lo si dice e soprattutto quanti altri sono presenti che ascoltano queste cose perché magari io da amico posso dire una cosa vera di una persona che penso che mi sento di voler dire per sostenere il mio discorso magari sbaglio in quel momento perché ferisco l'altra persona da collega invece la posso buttare in caciara posso far finta che quella cosa in privato non sia mai avvenuta posso dire mille altre cose posso giocarci quindi bisogna sempre stare attenti anche perché poi dipende su che cosa si parla nel senso c'è ovviamente si deve cercare di non ferire nessuno ma questo in generale nella vita però dipende anche che cosa intendono le persone per ferire no perché poi adesso c'è un po' anche questa cosa che c'è il rischio che qualsiasi cosa possa ferire qualcuno cioè davvero a volte si ha un po' la paura online dire oddio ma sta roba la dico cioè perché qualsiasi cosa diciamo appunto qualcuno si può prendere male anche se magari in live io dico che mi piace il rock e il pop mi fa cagare e magari dall'altra parte c'è qualcuno che ama il pop e si può sentir ferito quindi insomma bisogna anche poi capire c'è il ferire davvero nel senso alla cazzata per la quale ce la si prende ma guarda questa cosa di di essere colleghi e quant'altro cioè a me è capitato proprio ieri sera che ero a vedere City Hunter e c'era una ragazza con cui abbiamo discusso in privato su Instagram e io l'ho vista sono andata lì l'ho salutata tranquillamente perché sinceramente a me non frega che abbiamo avuto una discussione sullo shoujo cioè capito cosa intendo dire finché non ci si diffama seriamente o non ci si insulta proprio a livelli clamorosi ma se abbiamo avuto una divergenza su quello che è il tema shoujo cioè anche che abbiamo finito con la discussione a parte che spoiler cioè sono stati quattro messaggi in croce mega tranquilli però comunque si vedeva che c'era l'astio anche se erano tranquilli ed educati percepisci l'astio quando c'è c'era da ambo le parti anche solo un minimo sì ma era una roba sullo shoujo cioè io l'ho vista ieri sono andata lì oh ciao come va anche tu sei qua per vedere il film non perché io debba essere falsa ma perché sinceramente la persona e il contenuto che porta sono due cose diverse a meno che si entrano in discussioni poi più personale quella è un'altra cosa io mi rendo conto di questa cosa che fa parte un po' di tutti quanti noi no? diciamo che le persone sono un po' schiave delle loro passioni e a volte quando si tratta di qualcosa di molto distante da loro come ad esempio può essere tu prima hai citato il pop no? tanto per dire ma anche lo shoujo ma può essere il manga può essere qualsiasi cosa te parli male di quella di quella storia di quell'autore di quel manga la gente la percepisce così vicina a loro che sembra che gli stai insultando la mamma letteralmente sì 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 te parli male di quella cosa là e stai parlando male di loro e io sì sì so anche perché questa cosa perché la gente si identifica troppo nelle cose che ama difficilmente magari non hanno una propria personalità forte si identificano nelle loro passioni e quindi vedono come affronto personale quella roba che leggi mi fa schifo ad esempio no? è veramente così il fatto è che inevitabilmente queste cose no? che noi abbiamo dietro nei nostri sfondi in qualche modo ci definiscono no? sono parte della nostra identità cioè ci hanno formato alcune ci hanno proprio costruito la personalità magari un grande giuro non sono psicopatica nonostante la mia libreria no mai mai nella vita non chiamate la polizia vi prego sono una brava persona FBI open up fantastico bisognerebbe tipo fare un format del descrivo la tua personalità in base a quello che leggi forse arriverà però in quel caso voglio farmi psicanalizzare figurati se tu avessi perso questa occasione di farti psicanalizzare sempre è buono risparmiare 50 euro di un terapista capito? si creano i format per risolvere i problemi palese no? comodissimo ecco secondo me hai forse centrato il punto della questione perché facciamo tutto questo? essere creator è anche un modo per esprimere noi stessi perché magari non abbiamo tutte queste possibilità di raccontarci nella vita di tutti i giorni perché magari facciamo un lavoro che è diverso che richiede altre nostre skill o capacità e in questo caso invece i social vengono in nostro soccorso perché ci danno la possibilità di raccontarci di essere sul serio noi stessi ecco per esempio tu puoi indossare una maglietta di Dragon Ball Z qua in live e non sei al lavoro dove devi essere pulita impeccabile istituzionale invece io la metto anche al lavoro con i bambini che ci sento arrivano oddio ma è strano ma quello è che Dragon Ball e io sì sucate è mia la maglietta no come sucate ai bambini ma mi distoggio ci mancherebbe altro ma no ma è un modo di dire dai io stavo dicendo ecco perché i bambini sono contenti di stare con te invece no subito devastati mamma mia la cosa più bella è quando sbustano le carte dei Pokémon e non dovrebbero farlo perché sono a scuola e non le possono portare le carte e quindi tipo sei lì che guardi che cosa hanno sbustato perché se il pool è alto allora eh no la maestra la ritira sta carta mi spiace non si poteva portare a scuola sequestrata zitto comunque faccio la maestra all'elementare tremendo ragazzi tremendo immaginate come deve uscire un ragazzo che impara le cose a scuola da Martino un diavolo un devil man un devil man per forza non può uscire un bambino normale da là dentro eh avrebbe personalità però lo possiamo dire sicuro ha già delle risorse in più rispetto ad altri bambini assolutamente sarebbe deciso ma insomma da una certa in poi diciamo un po' le turbe inizialmente ci sarebbero però cioè dipende dai punti di vista dai dipende dai punti di vista no ragazzi possiamo dirlo che Charizard è uno dei Pokémon più di merda che siano stati fatti? ho capito ma tu hai capito che è l'unico Pokémon che acquista sempre più valore sì su questo è vero su questo è vero però Charizard anzi anzi più di Charizard il Pokémon peggiore è Dragonite cioè quello è proprio un Pokémon di merda va detto ora la diciamo subito così capiamo come funzionano le cose ma vedi qua stiamo già iniziando in realtà in chat non lo sanno ora li stiamo confondendo no? dicono ma questi perché stanno parlando di ste robe? cioè che cazzo c'entra con l'argomento? invece c'entra perché io ora potrei fingere no? non essere me stessa e dirvi che Charizard è un Pokémon bellissimo avendo praticamente il 90% di consenso tra il pubblico cioè tra di voi e tutto oppure essere sincera e dirvi che Charizard fa schifo e avere il consenso di quel 10% di persone che palesemente ne capisce di più perché questo va detto e tutto l'altro 90% che mi odia quindi in realtà c'è un senso in tutta questa cosa qua sai che cosa più che altro? cioè ti faccio una domanda secondo te quando si intraprende un percorso online è meglio crescere magari più piano nel tempo ma essendo proprio se stessi ok nel limite del possibile ovviamente oppure magari trovare dei mezzi per riuscire a crescere più facilmente ti faccio un esempio pratico ora ultimamente è spopolato Azbin Hotel ok? cioè ne parlano tutti io ho provato a vedere due puntate spoiler non mi sta piacendo infatti l'ho droppato io non ne ho vista nemmeno una ma presto la guarderò tutta per fare un contenuto solo per dare fastidio a Martina perfetto così almeno io sono tanto così da bloccare qualsiasi persona che vada avanti a pubblicare roba su Azbin Hotel raga è da un mese che io non vedo altro sul mio feed di Instagram cioè sono solo o reel o storie su Azbin Hotel infatti quel minimo di interesse che avevo mi è sceso totalmente perché io poi se c'è una cosa che odio è ma è una cosa mia che più si parla di un qualcosa più mi passa la voglia di guardarla cioè te lo giuro sì proprio da super edgy sta roba ma è più forte di me però ora al di là poi del mio gusto personale oppure no anche se c'entro nel discorso che faccio per chiuderti la domanda noto che i reel, i tiktok insomma i contenuti che stanno andando più forte in sto periodo sono quelli di Azbin Hotel dovrei per forza guardarmi Azbin Hotel per fare anch'io dei contenuti per crescere dato che ultimamente si parla solo di questo oppure no? cioè perché nel mio caso è un no non riesco a farlo non mi piace sarei falsa però capisci cosa intendo dire cioè per crescere online ci sono dei trend e se già non ti piacciono le cose che vanno nei trend il trend è andato no certo certo allora questa è chiaramente a discrezione di ogni creator e ovviamente però c'è una cosa da dire il trend funziona cioè è innegabile dire che se cavalchi l'onda otterrai qualcosa inevitabilmente se parli di quella cosa secondo me che tu ne parli bene o male l'importante è parlarne per essere sul pezzo poi ne parli bene o male crescerai la tua community in un certo modo però è tanto veloce quanto è veloce anche a sparire tutta quella gente che ti segue soltanto per quel trend cioè il punto qui di social non può essere seguire soltanto i trend che è una mossa che sicuramente consiglio di fare per chi vuole crescere ma quella crescita quanto riuscirà a convertire di fidelizzazione ecco secondo me questo è più importante eh già riflettere cioè io voglio essere un content creator che crea una community volatile o voglio essere un creator che crea una community che poi resta che magari siamo pochi ma sono quei pochi che veramente danno tanto sono quei pochi che comprano quello che tu consigli sono quei pochi che leggono quelle cose che tu dici che sono belle e sono quelli che poi magari qua su Twitch si abbonano con costanza e rimangono e stanno con te sempre praticamente uno deve scegliere, deve decidere e a volte è complicato scegliere perché giustamente se uno fa sempre quello che vuole e non vede risultati perché su YouTube se un video non va bene subito non va bene mai più inutile cioè è proprio inutile sì sono pochi gli argomenti che si possono riprendere su YouTube cioè se non va non va è molto uguale fa una live e qui ti parlo della mia esperienza io all'inizio quando mi sono approcciato su Twitch ho cominciato a fare le cose che facevo su YouTube ma facevo delle cose che oggi mi sembrano anche assurde tipo leggevo le storie delle ombre giapponesi di Lafcadio Hearn oppure facevo le conferenze su Berserk, su Dragon Ball e gli spettatori erano zero praticamente perché sì c'erano quelli interessati a questa cosa qua però bisogna capire anche qual è il contesto della piattaforma su Twitch viene premiata l'interazione con la chat perciò se io facevo la conferenza e stavo da solo a parlare così a bomba per un'ora la gente se ne andava sì sì sta roba delle conferenze solo Sabaku riesce a farla cioè non so lui non distingue YouTube da Twitch quindi tipo l'altro giorno lui è così proprio capito l'altro giorno ce l'avevo in sottofondo ha certo detto Michele con tutto il bene che ti posso volere ma basta cioè era un'ora e mezza di monologo in cui non si è fermato un secondo per leggere la chat nemmeno una volta vabbè è che io prediligo altro su Twitch cioè quel tipo di contenuto capisco che dici non c'era nessuno in live perché quel tipo di contenuto lì è interessantissimo su YouTube in cui puoi stoppare il video mandare indietro se non hai capito appuntarti le cose metterlo nei guarda più tardi magari non hai più tempo e lo continui dopo Twitch è bello perché c'è interazione cioè a meno che vabbè fai gaming ed è un'altra roba logicamente però cioè è proprio bello quel meccanismo che si crea tra te e la chat appunto in cui chiacchiere magari da che inizi a parlare di una cosa ti ritrovi a parlare e a fare tutt'altro proprio perché ti lasci non è che ti lasci trascinare perché non hai l'argomento ma perché cioè sei invogliato è come quando esci al bar con gli amici cioè tu puoi anche dire stasera al mio amico racconterò sta cosa che mi è successa però a una certa ti vedi poi ti saluti inizialui a dirti una cosa e quant'altro non sai poi effettivamente il discorso dove andrà a parare no? perché se hanno tante cose da dire è l'interazione umana ce ne sono tante magari magari non si arriva nemmeno a dire quello che si voleva dire chiaramente no esatto infatti capita le volte che stai chiudendo e dici vabbè niente ne parleremo domani di sta cosa perché non l'abbiamo fatto ora andata così io mi aggancio un attimo a un commento che ho visto in chat perché Kiryu aveva scritto ma mi sembra assurdo che uno smetta di seguirti per due reel diversi che fai dal solito ma basta pochissimo in realtà anche senza farlo diverso parlando di quello che faccio cioè l'altra volta mi è capitato un commento e direte vabbè è un commento non fa testo secondo me uno vale uno però è sempre giusto tenere a mente quello che pensa il pubblico facendo un video su Dragon Ball Dragon Ball Daima prossima serie di Dragon Ball che dovrà uscire io sono rimasto che merda nooo chiaramente io sono rimasto entusiasta del trailer del character trailer di Goku ne ho parlato nei commenti bellissimo sembra la puntata di Drone Together Babies si si vabbè qui diventano tutti i bambini certo certo Dragon Ball finisce qua qua è l'anime finisce qua basta non c'è più un cazzo dopo boh vabbè questa è bruciata completamente vedi in realtà la maggior parte la pensa così ma non hai cuglioni di dirlo no no ma lo dicono eh lo dicono guarda che i fan di Dragon Ball non tutti però eh sono abbastanza cagaca beh secondo me non frequenti i posti giusti vai su Dragon Ball Legacy tutto il giorno non fanno altro che ricordare il passato no no il passato e basta solo il passato solo zeta e qualcuno addirittura riesce pure a dire gitti meglio di super non so come vomitando io quando vedo ste cose tra tutti e due sinceramente ma comunque il punto è che ho fatto un video su Dragon Ball Diamond ne ho parlato bene è arrivato uno in chat e ha scritto e lo sapevo chiaramente che tu avresti detto che questa cagata è bella e mentre invece concordo con questo commento boh mentre invece Budokai Tenkaichi è meglio e tu hai detto che è brutto ecco qua cioè parlando anche solo dello stesso argomento quello è venuto e doveva dire questa cosa qua perché? perché io ho raccontato una cosa che mi piace sono stato me stesso avrei dovuto fare quello edgy secondo questo utente quello edgy che vive nei fasti del passato Dragon Ball era bello quando era tutto macio grosso i superpoteri bla 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 adesso è tutto a merda mi fanno schifo i Dragon Ball di oggi e invece no invece Dragon Ball mi piace sempre anche GT super tutto mi piace poi c'è quello che mi piace di più quello che mi piace di meno e sono stato me stesso e sono stato punito da uno in chat e questo questo è un po' il senso di tutto questo sono riuscito a ferire una persona parlando di Dragon Ball ma capito? è quello che ti dicevo prima beh tralasciando il fatto che TikTok dà anche dei risultati molto falsi perché cioè io vedo numeri su TikTok che sono assurdi poi negli altri social non si riflettono quei numeri quindi non so mai come prendere quelle statistiche anche nei miei riguardi in realtà perché vedo che faccio dei numeri completamente diversi su Instagram su TikTok magari una cosa diventa wow incredibile virale ma cioè non riesco a capire dove poi vado a finire davvero quella gente ecco secondo me è un po' è un po' va a finire in un altro che quel trend che fai tu lo sa fare meglio di te oppure è più divertente di te che si ridicolizza di più perché comunque TikTok ragazzi cioè non prendiamoci per il culo si basa molto sul ridicolizzarsi cioè la maggior parte dei contenuti sono stupidi in che senso cioè che tu devi interpretare la parte dicendo cioè facci caso tutte le cose che vengono dette su TikTok sono praticamente dette sempre c'è da tutti con un tipo di esclamazione un tipo di intonazione un tipo di non verbale di modo di fare e quant'altro e tutti questi sono un po' nell'auto per cularsi in pratica vuol dire che la gente su TikTok vuole ridere di te cioè fondamentalmente almeno questo è un messaggio che a me passa da quella piattaforma e quindi che cosa succede che se tu non lo sai fare quel trend lo sa fare un altro in cui dice le stesse cose tue ma in un modo in cui fa ridere verrà seguito lui ma su TikTok è difficile che su TikTok le persone ti seguano perché tu sei Domenico perché io sono Martina cioè le persone seguono i trend su TikTok e non gliene frega di chi li sta facendo cioè gliene frega di avere quell'intrattenimento di 15 secondi la gente che stasera è qua di sicuro ci sarà una parte che è qua perché spera in un dissing che ha tante che esce fuori uno di questo è Maurizio il secondo è gente che passa a caso e dice boh che cazzo sono questi due cretini che parlano con ancora la roba di Dragon Ball addosso ma nella maggior parte dei casi c'è la percentuale la fetta di torta più grossa è gente che è qua perché è affezionata a te gli piace il format magari ci sono qua io ho visto la scorsa puntata e fa guarda questa cretina in realtà un po' mi interessa quello che ha da dire rimangono ma si devono sorbire da un'ora alle due ore di live ok cioè su TikTok la gente non si muove per venire qua no non esiste proprio quella roba quindi secondo me è folle pensare di riuscire a convertire la gente da TikTok sulle altre cose che fai cioè se cominci su TikTok resti lì e fai delle cose poi diametralmente diverse anche perché come giustamente dicevi su TikTok il culto della personalità non funziona ma non perché non vuole funzionare ma perché non riesce a funzionare anche volendo non hai abbastanza tempo e nemmeno abbastanza attenzione da parte degli altri per riuscire a far capire chi sei e con chi sei intendo anche solo il personaggio naturalmente quindi non riesci proprio ad importi sulla piattaforma e dire guarda io so fare queste cose che funzionano bene su YouTube su Twitch per motivi diversi su TikTok non ci si arriva non ce la fa proprio che sono contento di far parte di un gruppo di persone che pensano che nella vita si deve scendere a compromessi solo per dei valori più alti cioè io non posso scendere a compromessi per un manga che mi viene regalato cioè io non posso fare un video un reel spendere il mio tempo perché quell'editore mi ha mandato una cosa oppure la chat vuole che si faccia quel tipo di contenuto noi l'altra volta pure ci siamo interrogati che fine faremo se noi cominciassimo ad ascoltare sempre solo la chat che poi alla fine noi come content creator faremo zero perché non saremmo più content creator saremmo a parte burattini ma saremmo veramente allo stesso livello della chat quindi perderemmo quella funzione che è razionalizzare tutte queste voci e diventare un po' un simbolo un po' il portavoce di tutto quello che la gente pensa naturalmente sintetizzato secondo me l'obiettivo deve essere questo deve essere quello di trovare nella vita un valore alto a cui ispirarsi tanto nella vita di tutti i giorni quanto sui social perché se te tutti i giorni ti metti a fa' semplicemente le marchette e dici e questo è bello e questo è bello e questo è bello e questo è bello mai niente è brutto la gente a una certa dirà o è di bocca buona o questo è sempre pagato poi la gente pensa che ti sia pagato ma parli anche tipo di prendere un cofanetto e sperare che entrino tutti i volumi incastrarli come se non ci fossero domani e dire che quel cofanetto è fatto perfetto su misura strana anche questa tua visione mi sembra di averla già sentita ma che fa la vita forse ho anche in mente il titolo del manga così la mente forse 9 si chiama ma potrei confondermi nella vita tu devi decidere che cosa vuoi essere cioè secondo me è anche complicato per un ragazzo che comincia a fare questo lavoro come dicevi tu magari comincia su tiktok oppure anche su instagram su youtube twitch e viene notato da qualcuno diciamo che qualcuno gli manda un manga a casa questa roba qua ragazzo che non ha esperienza che non ha mai lavorato e non sa come funziona bene questo mondo una roba del genere è come la pentola d'oro alla fine dell'arcobaleno capisci cioè viene viene veramente pompato nell'ego da questa cosa perché si sente considerato e il punto secondo me è anche questo cioè da chi vuoi essere considerato e per che cosa vuoi essere considerato perché poi il mondo principalmente è tutta apparenza bisogna pure capire che apparenza vuoi dare di te stesso che sembra quello stronzo quello di bocca buona quello intelligente quello burbero poi dipende dalle proprie inclinazioni però penso che si debba decidere e a volte ci si deve anche scontrare col naso proprio di fronte al muro della sincerità ecco come il sinceri talk prima o poi la sincerità la verità arriva cioè qualcuno in chat te lo dirà qualcuno ti scriverà il commento negativo no? qualcuno ti dirà stai spagando sai che cosa che cioè io ho un concetto di morale troppo ponderante da sempre nella mia vita che non ho mai capito se mi porterà qualcosa di positivo o di negativo calcolando che noto che la maggior parte delle persone che in realtà vanno avanti non hanno questa morale però vabbè c'è anche da dire che io ce l'ho e mi fa star bene averla quindi mi va bene così insomma però sono curiosa di capire dove si arriverà ti faccio l'esempio mio cioè io ho troppo nutro troppo rispetto nei confronti di chi mi segue ok troppo troppo cioè troppo non ho inteso che non va bene che troppo c'è tanto ok se non sembra il negativo tantissimo io non ce la faccio a pensare anche solamente di consigliare un qualcosa che fa palesemente schifo ok che è una storia del cazzo editata male con dei disegni terribili o anche magari i disegni più belli del mondo ma che comunque non dà niente perché chi mi sta sentendo si fida di me ok cioè nel senso anche qua ritorna la differenza con tiktok su tiktok non c'è fiducia tu non dai fiducia alla persona che stai guardando sugli altri social sì specialmente su twitch specialmente su twitch tu dai fiducia a chi stai guardando perché impieghi molto tempo con la persona che tu che sta facendo la live e passiamo le ore insieme esatto c'è passi le ore insieme scrivi in chat ti apri e aprirsi vuol dire anche solo dire qual è il tuo manga preferito già ti stai aprendo perché una parte di te me la stai raccontando poi magari mi doni delle sub oppure sub al canale e anche in realtà se tutto questo non succedesse perché se anche da twitch non ci fosse sta roba in realtà non mi cambierebbe nulla anche perché la gente che segue me lo sa io sono identica a te ovvero se doni le sub se è un coglione verrai bannato allo stesso modo di uno che è un coglione e non dona le sub no stavo dicendo strano Martina ha le palle tra le gambe non me lo ricordavo sei identico e il punto è che chi mi sta ascoltando in quel momento che ha fiducia nei miei confronti sta magari andando a spendere 7 10 17 24 90 euro su un qualcosa che io ti dico questa roba è spettacolare compralo fidati perché lo sai che di me ti puoi fidare cioè io davvero a volte ci scherzo su sta roba ma io non potrei mai fare le robe del genere perché quella che mi debancherebbe sarei io stessa cioè non dovrebbe arrivare una persona che fa la live o il video dicendo sbugiardo mansi kawaii cioè io mi sbugiarderei da sola dicendo raga scusatemi cioè io non lo so che cazzo mi sia preso sta roba fa schifo spero che qualcuno non se la sia comprata che attenzione non vuol dire a me piace una cosa se tu te la compri e non ti è piaciuta lì non ci si può fare niente cioè in questo caso sono gusti ok e poi lo vedi la differenza se tu stai facendo un prodotto a dv perché in tutta sta roba io non metto in mezzo la dv perché se c'è l'hashtag a dv secondo me le persone partono già dal presupposto che devono prendere quelle pinze probabilmente quello che stai dicendo non sto dicendo di sicuro al mille per cento perché dipende da persona a persona però sto dicendo che l'approccio è diverso non so se capite cosa intendo dire però se invece sono in live o faccio un video che non è una dv è semplicemente perché non voglio essere messa da parte dalla casa editrice oppure dagli eventi manco che cazzo di eventi ci siano però va bene perché poi la gente si pensa che chissà che festini vengano fatti questo è proprio il settore più lasciato perdere che ci sia perché di soldi non so se ce ne sono o se non si vogliono gestire io vi giuro vi giuro non gira nemmeno un grammo di c***o ma niente niente ma come fa ad essere un festino interessante se non c'è manco la c***o vabbè ma la droga sono le storie capito sono quelle le storie la gente la gente le storie gli artisti l'arte no capisci che finché è una dv io penso che si possa anche dire qualcosa cioè si possa scendere a compromessi quando una cosa è una dv perché tu stai dicendo al tuo pubblico è una pubblicità ok cioè io sto facendo una pubblicità questa pubblicità comporta un contratto parentesi io non ne ho fatte quindi non ho la minima idea di come funzioni io sto parlando totalmente a caso ok allora funziona che ti piace questo gioco no pubblicizzi lo stesso perché altrimenti ti strappo il contratto va bene ok preciso però capisci che se c'è scritto a dv io già mentre guardo il tuo contenuto parto dal presupposto che è una pubblicità quindi posso decidere uno di interrompere la visione perché dico non mi interessa vedere una cosa sponsorizzata due guardarlo perché sono curiosa di sapere che cosa ne pensi dopodiché decidere magari non lo so faccio una ricerca un po' più approfondita prima di comprare e prima di investire i miei soldi ma se invece il creator in questione si basa sul rapporto di fiducia che ha creato con qualsiasi utenza anche degli altri social secondo me lì sei stronzo scusami ma per me lì sei stronzo perché dall'altra parte tu non sai le persone come si guadagnano i propri soldi sta roba costa non si prende scambiandosi le caramelle e francamente solo per farti mandare un fumetto del cazzo in più tu devi far spendere i soldi alle persone così non mi piace non è proprio una cosa che davvero riuscire a fare no ti capisco perché è una cosa che secondo me devi averla dentro cioè devi essere proprio un figlio di puttana dentro per dire non me ne frega niente di quello che spenderanno io devo guadagnare devo prendere soldi cioè è mai possibile che ma che poi soldi alle volte neanche per soldi perché se fosse per soldi sarebbe a tv e allora no no a volte è soltanto anche solo per essere riconosciuto e dire quello che ti dicevo all'inizio ecco qualcuno mi ha considerato qualcuno ha tenuto conto del fatto che io sto su questo social e posso valere qualcosa ma in realtà non è così perché tu non vali niente quell'azienda se non ti paga nel caso della tv ok considera più o meno te e la tua azienda di soldi non soltanto te ma se se non ti sta nemmeno pagando tu non vali niente tu vali 5 euro tu vali 20 euro quello che vale il fumetto insomma che è zero perché poi un manga spedito su tutto quello che loro guadagnano è veramente niente e hanno ottenuto una pubblicità gratuita che tu gli hai fatto e per che cosa per che cosa per essere riconosciuto per dire da qualche parte per aver scritto da qualche parte che poi voglio capire questo curriculum quanto deve essere ricco di ho fatto pubblicità gratis a queste aziende nuove aziende che potete seguirmi quanto quanto non mi pagherete in futuro perché poi questo è cioè se tu cominci a non prendere mai soldi e poi gli altri diranno ma scusa quello l'hai fatto gratis perché io ti dovrei pagare ma per quello dico se fosse un lavoro e per far sì che sia un lavoro ci deve essere un ingresso economico con dei soldi e non pagandoci le tasse quant'altro e non un fumetto che ti arriva lì non ci vedrei un problema è lo stesso concetto di andare in un negozio di vestiti ok se io vado da Bershka e chiedo alla commessa guarda ma secondo te i prodotti che vendete qua valgono o dovrei andare da Pull&Bear cioè grazie al cazzo che la commessa di Bershka mi dice sono migliori i nostri prodotti però io sapendo che quella commessa è pagata da Bershka e che quindi giustamente pure lei deve guadagnare dei soldi e arrivare a fine mese io posso in quel caso accendere un campanellino dicendo ok Marti lei ti ha detto così facciamo una cosa che invece che comprare alla cieca ora faccio un bel giro del negozio e mi spulcio bene tutti i vestiti poi vado da Pull&Bear e faccio la stessa cosa dopodiché decido in quale dei due andare e questo sarebbe un discorso come quello che ti dice guardate questa qua è una dv dichiarata in modo tale che voi sappiate questa cosa ergo vi consiglio comprate pure questa roba qui cioè io lo so che tu magari lo ami oppure magari non lo ami però sai l'Enel qualcuno te lo dovrà per pagare a fine mese ok che alle volte anche questo non capisce l'utenza che comunque tutta sta roba costa un botto c'è anche c'è anche da dire questo poi quando diventa un lavoro uno può decidere giusto dice vabbè questo lo pubblicizzo questo no è insomma perché quando lavori in questo campo e guadagni una cifra che è x e che ne devi fare tanti per riuscire ad arrivare alla fine del mese alla fine arrivi che pubblicizzi qualsiasi cosa cioè secondo me non riesci nemmeno più a soffocare quella voce interiore che dice vabbè ma questa è una merda non pubblicizzarlo però vedi che deve arrivare la bolletta domani e dici questo lo devo pubblicizzare sai perché perché sennò sto alla canna del gas e mi servono altri soldi e non posso non posso già qua è un discorso anche questo molto complesso perché infatti la domanda è cioè qualsiasi cosa ti venga detta la si pubblicizza però è anche vero che tutti noi nella vita vendiamo qualcosa cioè nel senso in un modo o nell'altro per me è proprio quando lo fai non pagato qui non c'è niente di dichiarato io apro un tuo video non c'è una sponsor non c'è una dv quindi io ho quel campanellino che mi si accenderebbe non mi si accende perché dovrebbe accendersi nel senso io sto guardando un tuo video di te che stai facendo un video di ciò che ti piace e se ce la metti pure lì e allora no e allora in quel caso per come son fatta io ti unfollo cioè non ci voglio avere a che fare comunque non voglio guardarmi i tuoi video perché a quel punto cioè lo stai facendo davvero perché cosa cioè fai buttare via soldi alla gente così perché cosa per davvero avere il cufanetto da esporre non lo so boh sì 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 no no in quel caso ti capisco è proprio solo per ego personale solo per dire ehi guarda finalmente conto qualcosa ma un po' è come il discorso che abbiamo fatto settimana scorsa sugli artisti cioè se gli artisti cominciassero a farsi pagare per tutto vedi come cambierebbe la musica ugualmente anche i content creator che sono qua sopra le cose sarebbero diverse io sinceramente non faccio più video su fumetti nel senso l'editore ti manda qualcosa fai il video ferril io non lo faccio e i video proprio video sui fumetti sul mio canale sono drasticamente scesi io principalmente parlo delle edizioni oppure parlo di quei fenomeni che sono berserk dragon ball one piece che a prescindere da me venderebbero lo stesso ah beh certo è chiaro sono così famosi che non hanno bisogno di me anche se diciamo in certi momenti se tu ne parli bene non ne parli male le vendite possono salire o possono scendere in questo magico paese che è l'italia certamente non nel mondo e quindi sono dovuto scendere a patti con me stesso perché ho detto questo è il mio lavoro e io non posso lasciare che ogni volta queste aziende abbiano pubblicità gratis perciò cioè quel fumetto per farne un video a me deve ma deve veramente piacere tantissimo cioè deve esserci proprio un motivo dentro lì deve essere tu che proprio l'hai amato al punto tale che ne vuoi parlare cioè proprio non riesci a tenertela sì io infatti quando ho cominciato a fare video su youtube e stiamo parlando di tanti 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 anni fa io facevo video su qualsiasi cosa ma su tutto quello che leggevo leggevo e ne parlavo bene o male non c'era l'obiettivo di raggiungere la casa editrice l'obiettivo era raggiungere il pubblico e basta oggi invece vedo che c'è l'obiettivo di fare ma manca i soldi perché i soldi non si fanno ma fare battere casse in qualche modo dimostrare che si ha un curriculum pieno di cose fatta con quella casa editrice che poi non si ha mai pagato esatto secondo me moltissimi creator puntano alla cosa sbagliata con chi stai parlando con l'utente non con la casa editrice io dovrei parlare di un fumetto perché mi è piaciuto il fumetto e voglio creare aggregazione con le persone che mi seguono magari sapere che cosa ne hanno ne pensano loro fargli capire che cosa ne penso io e parlare di una cosa che mi piace cioè non ne parlo perché almeno arrivo alla casa editrice perché questa roba secondo me è proprio da persone vuote dopo che sei arrivato alla casa editrice che cosa succede cioè ti chiamano per fare 40.000 panel e vorrei vedere se pagassero mentre si fanno certi panel e comunque questa cosa va sottolineata questa gente crea un danno irreparabile a tutti coloro che fanno questo lavoro perché è quello che succede che non pagheranno più nessuno e la colpa è di tutte queste persone che accettano di fare tutto quello che una casa editrice chiede perché io non lo so seriamente come faccia una persona credere di essere importante perché ti caga planet manga ma lo dico qua planet non me ne frega un cazzo se mi caghi cioè puoi non cagarmi vado avanti a comprarmelo bleach porca troia cioè se non volevo prenderlo non me lo compravo dal primo numero poi è ovvio che se mi dovesse contattare planet per dirmi ti va ti faccio fare una dv su tutti gli ultimi numeri di bleach scusate una cosa adesso un attimino perché dovrei dire di no bleach lo sto amando ho comprato 45 anzi domani vado a comprare il 45esimo se dico sai che c'è che magari qualche euro lo riesco a ricavare va bene ma di base non punto a quello sarà che forse io nella vita stupisco di cose ben più grandi non è una casa editrice che mi fa dire oh mio dio può esserci non metto in dubbio il sentimento positivo di dire che bello guarda mi hanno contattato certo che questa cosa può far piacere non voglio giudicare male questo ma deve finirli la roba ragazzi dai boh non riesco a capire il fatto è che come sempre ci sarà qualcuno un po' come dice Kirio ci sarà qualcuno che lo fa gratis eh certo e quindi pensi se non lo faccio io così a queste condizioni verrò sostituito da qualcuno un po' come il discorso che facevo prima cioè quando diventa un lavoro e dici beh questo mese la sponsorizzata non la faccio poi ci pensi e dici ho le spese da pagare la sponsorizzata la devo fare perché questo è il mio lavoro ho voluto la bicicletta però la sponsorizzata appunto è lavoro in un qualunque lavoro tu fai cose che ami e cose che non ami cioè ragazzi non esiste nessun tipo di lavoro in cui il 100% delle mansioni che devi svolgere ti piacciono non esiste e tu non puoi dire no io faccio solo quelle che mi piacciono e quelle che non mi piacciono no funziona così però sul lavoro è un conto se mi contatta Planet e mi dice ti do 500 euro per parlare di Bleach e Gazzetta Cristo raga è da quando è uscito che lo faccio a gratis cioè magari con 500 euro ci pago due rate della cucina nel senso capito capito recuperi i soldi spesi in Bleach davvero ma tu immaginati no io scena Star Comics mi contatta e mi dice ti mando il fumetto di One Piece quindi non col non a dv non sei pagata non sono pagata ne parli e io prendo One Piece anzi farebbe ancora più ridere se lo facesse Planet con Poon Poon no? no sarebbe proprio a te non piace Poon Poon vogliamo che tu parli bene Poon Poon ma lì perderesti ogni credibilità perché la tua chat sa che tu quella storia la odi lì tu ti bruceresti tutto però ecco il punto è questo secondo me Wally Blue ha detto una cosa scusa Wally Blue ha detto in chat lo voglio correggere perché ha detto se te ne danno 3000 per le scommesse online non lo faccio no mettici un altro zero perché le aziende di scommesse online pagano in decine di migliaia di euro fra ti danno tanto e l'uomo è facilmente corruttibile perché basta che tu hai un problema c'hai delle cose da pagare e arriva un'azienda che ha tanti soldi è facile corrompere 30.000 già sono diversi per 3000 non lo farei mai cioè non mi cambiano la vita 3000 capito e si rivaluta è il potere della rivalutazione ecco come si chiama e Martina subito rivaluta Poon Poon per 30.000 euro capiamo scusa posso dire una cosa ragazzi io sfiderei chiunque la storia più di merda del mondo praticamente arrivo a farmi pagare per dire che sia bella vuol dire che ho vinto io Poon Poon Suka avrei comunque vinto io cazzo non perderei la credibilità in quel caso sarei vincente da dire ci ho fatto i soldi con questo uccellaccio sicuro ma penso che chi ti segue per altri motivi dirà vabbè questa è stata venduta basta basta me ne va però c'è da dire una cosa che secondo me a volte nonostante i creator siano esagerati a volte il pubblico non riesce a capire certe dinamiche però secondo me il pubblico non riesce a capire certe dinamiche magari arriva a rompere il cazzo perché è abituato male dai creator che fanno i lecchini mi spiego secondo me un utente dovrebbe essere felice per te se tu lo stai intrattenendo da due anni è due anni che io ti faccio cioè grazie a me alla chat grazie a te anche che decidi di venire perché comunque anche un po' non scambio però siamo sempre noi quelli dall'altra parte ti intrattengo magari ti faccio stare bene hai avuto un problema e non ci pensi grazie alla live che stai vedendo comunque da egoisti non capire che una persona magari se ha la possibilità di guadagnarci qualcosa può anche decidere di farlo l'importante che sia sincero nei tuoi riguardi e che ti dica io sto pubblicizzando Pum Pum è una dv non si può prendere anche solamente per ragazzi ho sempre detto che Pum Pum mi fa cagare va bene questa è una dv di passaggio schippate fingete nulla ma io con questa roba ci posso mangiare anche perché voi non sapete quelli che sono i problemi oppure no non per forza problemi però di una persona a livello economico un riuscire a venirsi incontro però io capisco anche che l'utenza si incazzi facilmente perché ci sono proprio il creator e il redome che pigliano proprio per il culo davanti alla faccia cioè sbeffeggiando pure e allora il problema qual è? che poi rischi di fare di tutta l'erba un fascio allora è ah quindi pure tu adesso fai parte di quelli venduti invece no sarebbe bello poter far sì che voi tanto non succederà di adv non ne ho da dover dire c'ho la dv da fare quindi non succede però capite che sono sempre martina la martina di sempre schiettissima semplicemente mi è arrivata una pubblicità che mi fa pagare no il terreno in realtà ma raga ve lo direi volentieri in realtà no ripeto sono talmente così che le adv non penso che me le facciano fare sta preparando tutto ragazzi questa è una mossa geniale di marketing domani sponsorizza Pum Pum e tutte le opere di Asano immediatamente no posso dire una cosa a me comunque le altre opere di Asano che ho letto sono piaciute a me solo Pum Pum fa schifo ma proprio solo solo quello porca troia Domenico è monnezza quella roba abbastanza da me va bene ma anche anche le altre cose tipo che ne so Solanin Holographic quello non ho letto il campo dell'arcobaleno eh leggi il campo dell'arcobaleno poi me lo dici se ti piace però vabbè poi sono gusti ovviamente io capisco che chi qua legga Pum Pum al merda gusto però ci mancherebbe ora tu sei una bulla non puoi dire del merda gusto allora abbiamo parlato pure di soldi e ci sta perché poi alla fine sono quelli che un po' cambiano la vita a tutti sostanzialmente però il problema rimane sempre legato al fatto che in questo settore il nostro principalmente soldi non ne girano ma e quando girano sono veramente pochi pochi esatto e in quei casi sono veramente quelle sponsorizzate che devono funzionare bene oppure sono progetti molto grandi che a volte eh sono anche ben sostenuti dalle case editrici in Giappone quindi non è che la casa editrice italiana fa tutto di di testa sua così ha sempre bisogno di confrontarsi e di avere approvati i progetti poi magari ecco questo rientra più all'interno della competenza del nostro discorso di oggi e cioè il linguaggio il modo di esprimersi cioè a volte alcuni miei video sono stati considerati un demerito per alcuni eventi e quindi non sono stato chiamato e portato da alcuni eventi perché avevo fatto dei video dove mi esprimevo con sincerità e dicevo quello che pensavo ma che non faceva piacere alla case editrice perché dicevo delle cose forse troppo scomode non voglio nemmeno dire delle verità no perché io non ho la verità in tasca però delle cose scomode che se ripetute di fronte alla personalità invitata in quel momento dal Giappone potevano essere sconvenienti quindi a volte bisogna anche riflettere su questo e dire che tipo di contenuto dovrò fare se poi voglio intercettare la casa editrice anche questo insomma è da tenere di conto anche se devo dire la verità ormai io sono arrivato a un punto della mia carriera dove dico mi autocensuro da solo su alcune cose che so potrei dire in modo più sottile e anche più pungente dire in un video ah guarda Toyotaro quel gran cazzone non sa disegnare non lo dici dici ah Toyotaro molto bravo nell'impostazione della pagina anche se l'anatomia è tanto carente boom e tutti ma questo è perché sei un paraculo e sei napoletano eccoci qua inizioni in senso la risposta ce l'abbiamo già voglio dire sei il re dei napoletani paraculi sempre in piena rivalutazione è svelato l'arcano la piena rivalutazione non è il pieno politically correct assolutamente no perché comunque posso sempre dire tutto quello che voglio ma senza dover essere volgare cioè il punto è questo cioè io prima quando facevo i video su youtube io a volte certi video del passato li riguarda e dico madonna oggi non potrei mai farlo perché tipo sparo fuori la f word la n word cioè cose che eh no oggi non si può oggi è cambiato tutto quindi se lo dico letteralmente mi ammazza cioè si tratta anche di professionalità di saper parlare poi c'è da dire ragazzi perché secondo me il compromesso è anche questo dai è come quando vai al ristorante no che ormai non ti scrivono più cotoletta impanata no ti scrivono battuta di carne in crosta di pane cioè sempre ma che cazzo è in crosta di pane capito perché fa più figo cotoletta impanata una roba si buttata lì ormai è vecchia invece battuta di carne in crosta di pane tu la ordini inizi già a vantarti con i tuoi amici dicendo sono in un ristorante della madonna con il mignolino alzato invece ti porta una cazzo di cotoletta impanata quindi il senso del discorso è va bene anche magari confezionare un po' meglio a livello di comunicazione con il pubblico dei gusti che abbiamo quando vogliamo dire che qualcosa fa schifo quando però inizi magari a essere una figura un po' cagata e seguita vedi già che uso parolacce magari un minimo dovresti cercare di quello sia eh ma lì ti senti te stessa cioè quando dici vabbè adesso dico questa cosa e so che se la dico in un certo modo la gente reagirà di conseguenza se lo dico in un altro reagirà in un altro modo però sei sempre te stessa ma io sono io per l'idea che ho non per il modo in cui la espongo la forma può essere però è una forma che decidi tu eh esatto la decido comunque io e poi vabbè la forma un po' ti può definire ma in minimissima parte c'è la cosa che più ti definisce il contenuto o meglio io penso che vada così in realtà alle volte invece sembra proprio tutt'altro ecco a volte è proprio l'opposto infatti me ne accorgo la gente vuole vedere più le cose flashy flashy che poi effettivamente quello che c'è sotto ed è un peccato per giungere alla conclusione del nostro discorso dopo tutte queste chiacchiere io direi che mi pare abbastanza scontato che tu fai quello che cazzo ti pare sì alla fine sì non vieni mai a patti con la chat ma dipende per la chat dipende perché tu gli vuoi bene sì ma decido comunque io alla fine perché se vengo da te ti dico no Dome guarda volevo chiederti un consiglio ma secondo te dovrei fare così o cosa tanto alla fine scelgo io ma magari ti chiedo il consiglio giusto perché boh dico dai fammelo dire ad alta voce perché io quando parlo e dico le cose ad alta voce le rielaboro meglio riesco a capire meglio quant'altro però telefonata tipo a casa di Martina no ma tu devi capire che quella stronza ma sai che cosa ha detto aspetta un attimo che prendo un calice comunque io non dico queste parole riesco a dire bene come quella stronza ora so come dirlo però non hai la sigaretta in mano come il rumore dell'accendino ah sì ma che cosa è così ma fai affanculo pure te l'altra l'altra volta penso abbia fumato in 20 minuti di telefonata 77 sigarette no 79 79 79 sigarette così così oh a me piace se sto al telefono camminare in tondo e io raga quando parlo mi viene da fumare cioè magari poi faccio una settimana intera senza toccare una sigaretta ma quando parlo al telefono di qualcosa di importante devo fumare comunque per concludere che prima che facessi questa scenetta così patetica l'ho fatta solo per il reel ecco vedi per il content io cioè la chat la tengo in considerazione se propone un qualcosa che è nelle mie corde e che allora effettivamente mi piace solamente in quel caso appunto per me è utopia già solo pensare altri contattano per cioè io sono stata contattata lo posso dire se sono stata contattata cioè posso fargli i nomi o c'è un NDA hai firmato qualcosa no ho detto di no ah ok allora mi ha scritto Musubi Musubi vero edizione fa no volevamo mandarti il volume io gli ho detto grazie ma no cioè non mi va tanto me lo ordino su anche io soprattutto dopo la live straordinaria dell'altra volta tra l'altro è stato incredibile perché è successo due giorni dopo dalla mia live in cui dico che colorless non è il massimo proprio il miglior fumetto da comprare però vabbè cioè sinceramente in questo caso io voglio poter accendere la la live e dire in tutta tranquillità che cosa mi piace che cosa no di quel volume e se te lo regalano anche se ti fa cagare cioè secondo me una cosa buona la trovi sì perché è come il tuo zio che ti regala l'ennesimo paio di mutande di merda a Natale capisci che è un regalo quindi un po' glielo fai il sorriso e dici vabbè dai grazie invece io nel mio caso voglio cercare di essere a parte che schietta su schietta però proprio per levare qualsiasi beneficio del dubbio ho detto di no tanto sinceramente ragazzi mi avrebbero mandato un cazzo di fumetto ma che mi frega di un fumetto carinissimi che mi hanno contattato per l'amor di dio però è un fumetto che costa 7 euro secondo me questo dimostra ancora una volta come forse il loro progetto non è fantastico noi sappiamo benissimo che gli editori guardano ogni cosa che noi facciamo e se loro non sapevano in anticipo tu che cosa avevi già detto dei loro manga vuol dire che stanno lavorando male di nuovo o non come gli altri magari altri editori come quelli di blitz il manga sugli scacchi più bello del mondo ti giuro io se mi dovessi se mi dovessi mettere a parlare di blitz no no parliamone di blitz cioè tranquillamente l'unico blitz che esiste è lo spray per i capelli che vendono i parrucchieri blitz quello è fortissimo o il blitz della polizia o il blitz della polizia loro però abbastanza professionali ti mandavano l'nda con tutto scritto devi parlare per forza in questo modo del manga mannaggia tutto ti diamo quante copie tipo un totto di copie vabbè ma quanto puoi sentirti presuntuoso a credere che me ne fotte qualcosa di cinque copie del tuo manga di merda con tutto rispetto eh cioè perché ragazzi qua voi non sapete come funziona ma voi qua allora scusatemi ragazzi adesso io parlo a chi ci sta ascoltando quanto vi sentireste presi per il culo da una persona che ti dice ti mando la copia ne devi parlare così così e cosà ci devi mandare il video quindi devi fare cioè anche qua loro volevano il video specifico neanche da dire lo butto dentro a un video acquisti butto dentro anche blitz oppure in una live ne parlo al volo non ho un video scritto registrato montato editato e tutto mandarglielo a loro dovevano approvarlo rimandartelo e alla domanda scusate per curiosità tutto questo che non è niente popò di meno di un adv perché questa cosa è un adv che mi stai chiedendo e allora ti dico che possiamo anche pensarci se farla oppure no cioè non dico quantomeno subito di no ci rifletto semplicemente tanto poi probabilmente la risposta sarebbe no ma almeno mi do un secondo di tempo per pensarci la loro risposta fosse ah no ma noi non paghiamo è che noi mandiamo i manga in base a quanti iscritti hai su youtube quindi se hai più di centomila iscritti ti mandiamo cinque copie raga scusate ma quanto vi sentireste presi per il culo ma cosa ma cosa pensi di contare che non me ne frego faccio un cazzo manco di cinque copie del numero uno di akira me ne faccio niente di nuovo è assurda sta cosa è allucinante pensano di riuscire in qualche modo a corromperci perché poi questa è totale corruzione sì ma domenico sai quanti video su blitz ci sono e a tu raga tutti quelli che hanno fatto il video su blitz hanno ricevuto la stessa email no però magari non hanno chiesto un compenso e quindi non sanno di questa roba extra c'è da dire no infatti l'hanno fatto ragazzi per me già solo dover scrivere girare editare un video in cambio di un volume non esiste poi per rispondere a Simo allora generalmente Simo se ti scrivono per mandarti la roba vogliono che tu ne parli è difficile che non succeda cioè non è che ti dicono ne devi parlare per forza ma ti dicono guarda se vuoi te lo mandiamo se avresti piacere a dire qualcosa riguardo al nostro fumetto te ne saremmo grati poi tra l'altro neanche che ti dicono ne devi parlare bene è proprio qua che sta il tranello che poi la gente ne parla bene perché vieni depennato dalla lista sì 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 se poi ne parli male dicono vabbè ciao ciao è stato un piacere non collaboreremo mai più con te però di nuovo è sempre per fare leva sull'ego no? perché pensano ah sì questo c'ha c'ha poco c'ha poco su instagram allora chiediamoglielo perché magari ci dirà di sì ma sti cazzi una casa editrice seria non ti chiede di fare chissà che al massimo ti chiede ma ti è piaciuto non ti è piaciuto che io fino a ieri collaboro con casa editrice della mulino bianco così almeno non rischia non faccio nomi perché tanto non collaboro con nessuno oggi dico che questa nuova questo nuovo fumetto della mulino bianco non mi piace e io smetto di collaborarci ma il pubblico che idea si può fare della casa editrice della mulino bianco ma che figura di merda fai ma che figura di merda fai le case editrici invece non capiscono che in questo modo fidelizzi di più il pubblico perché perché se io dico le cose belle e anche le cose brutte quello che succede è che il pubblico dice cazzo però lo vedi che Martina dice non dice solo che quella roba è bella dice anche che è brutta un'altra e nonostante questo la mulino bianco continua comunque a mandargli il fumetto vuol dire che vogliono la sincerità perché tanto sti case editrici non capiscono che la gente il fumetto se lo compra comunque se uno ha deciso che quel titolo lo deve comprare lo compra cioè magari noi possiamo influenzarli a non fargli comprare quello e gliene facciamo comprare un altro cioè secondo me il discorso deve essere anche questo perché la case editrice non ha bollino ma non è quella che ha fatto il fumetto la case editrice ce l'ha editato chiaro chiaro l'hanno solo importato però la case editrice naturalmente ha l'obiettivo di vendere non c'ha l'obiettivo di pagare te che non gli fai vendere cioè se se il discorso dovrà essere in futuro una collaborazione costante seria con il content creator non ne basta uno solo che c'ha dei gusti e dice io leggo solo questa roba qua cioè ci vuole una squadra intera di content creator che una case editrice deve avere per riuscire a coprire tutti i generi e tutti i target che hanno perché altri non funzionerebbe no no quello è vero ma infatti una cosa ne fai vendere più un'altra ma infatti quello che abbiamo è che praticamente mi sembra di stare all'oratorio con la suora che dice al bambino senti porti questo dall'altra parte dell'oratorio perché non c'ho voglia di andare a piedi e in cambio ti do una caramella che avresti pagato 5 centesimi e il bambino è felicissimo perché si mangia la caramella gratis e poi porta 10 chili di peso di una roba scolosi cioè all'altra parte ragazzi io non lo so davvero e poi una cosa che io non riesco minimamente a capire sono tutti quei creator che alla domanda che non dici mai se una cosa non ti piace ti rispondono dicendo ma perché io parlo solo di quello che amo sul mio canale cioè se mi mandano un manga e non mi è piaciuto non ne parlo questa cosa non ha senso tu puoi arrivare a parlare molto più spesso di roba che ami e non lo metto in dubbio lo mettere il fatto che una cosa mi stai più sul cazzo di chi invece finge che gli sia piaciuta a quel punto non ha senso ragazzi se ci pensate voglio dire questa è allora clima del terrore praticamente devo parlare solamente di roba che ho amato perché è andato via nel mentre infatti è andato a cercare la dignità di sta gente cioè secondo me se ti mandano una roba o non ne parli mai oppure ne parli sia in modo bello che in modo brutto perché se no puoi semplicemente dire mi hanno regalato questo e basta cioè se puoi farla la storia con scritto gifted by e non dire niente di quella cosa lì è una careneria mi hai fatto un regalo faccio una storia madonna non sto dicendo proprio la mia di questa roba sì ma quale dovrebbe essere il problema ma anche il caso inverso cioè quale dovrebbe essere il problema di dire ehi questa cosa non mi è piaciuta cioè secondo me la sincerità deve essere sempre la base del content creator perché se no non c'è dai domenico non c'è non prendiamoci per il culo io la maggior parte della gente che sento parlare ma anch'io vorrei che ci fosse anche perché se ci fosse noi sembreremmo anche meno stronzi a sto punto preferisco sembrare stronza perché se dobbiamo vivere nel mondo in cui devi dire solo che le cose ti piacciono viveteci voi ragazzi perché sarebbe un mondo di merda perché la vita non funziona così cioè funziona di parlare anche di ciò che non ti piace e crearti una tua personalità perché così funziona io sento spessissimo parlare delle opere e mai dell'edizione anche qui cioè dell'edizione non parla quasi nessuno e non devi essere esperto per parlare di un'edizione in che senso che io posso dire il minimo che so che io qua ho il castello invisibile che sono a metà del quinto finalmente l'ho quasi finito vi posso dire da persona inesperta che in una casa editrice non ci ha lavorato quindi non so come funziona ma vi posso dire che è figo che non è figo che la sovraccoperta mica sovraccoperta due robe ve le posso dire invece no bellissimo questo nuovo fumetto è stupendo e poi magari vai a vedere c'ha le traduzioni fatte male tagliato in mille pezzi boh davvero ma secondo me in generale c'è qui una voglia di nascondere le informazioni sì non lo dico perché potrebbe essere un valore che vado a togliere al possibile acquisto no quindi vado a limare troppo perciò non lo dico proprio e lascio lascio perdere e rientra un po' nel cerchio di quelli di prima no eh vabbè non mi è piaciuto non ne parlo aprioristicamente però capito che per me è una paraculata poi ognuno può fare quello che vuole per me è una paraculata ma in generale è così nella vita perché da quando esistono i fumetti a oggi ne saranno stati scritti milioni nelle nostre case non ce ne sono milioni ce ne sono decine quindi è ovvio che sarà sempre così cioè noi parleriamo sempre più di tutti quelli che ci sono piaciuti e non di tutti quelli che non ci sono piaciuti esatto però anche il parlare di questo manga non mi è piaciuto e lo vendo per me è importante farlo sui miei canali cioè di far capire alle persone che questa roba non è sacra e che se non ti è piaciuta tu puoi venderla cioè non succede niente anzi sento magari a volte persone dire eh però non ho i soldi per prendermi Akira che costa 22 euro a volume e poi magari hanno una serie da 40 volumi che gli ha fatto schifo che non gli è piaciuta sono arrivati fino alla fine e non la vogliono vendere scusa ti prenderesti Akira se tu vendessi quella serie lì ma poi in generale secondo me c'è da tenere conto di una cosa e cioè che magari a noi quel manga non è piaciuto però può esserci un manga per ogni persona magari sta aspettando quel lettore che ancora non ha scoperto quella storia sta lì e quando la scopre grazie a noi pure se ne parliamo male quello magari dice ma sai che a me invece interessa mi piace il disegno mi piace il plot esatto e quindi se lo va a comprare lo stesso pure se noi ne abbiamo parlato male perché abbiamo intercettato un pubblico che siccome c'è tanto culto della personalità la gente si avvicina a noi perché abbiamo dei gusti comuni comprano più o meno le stesse cose che compriamo noi non lo riusciremo ad intercettare invece quel pubblico a cui piacciono cose diverse assolutamente sì 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 boh bella risoluzione comunque questa mi sono sorpreso anche di quello che ho detto io fantastico hai visto ho rigirato incredibile facciamo il format ma un'oretta episodio non di più non ce ne sarà nessuno che durerà solo un'ora ma un'oretta si era nessuno mi sono una tossirno ne sarà nessuno Grazie a tutti.